Inutile dire che dopo l'impresa di Milano ci si aspettava ben altro. E invece per la VL arriva la terza sconfitta su tre gare casalinghe. Nel sabato sera della Vitri Frigo Arena la Gavi Napoli si dimostra superiore e vince con un netto 77-97. 20 punti di passivo frutto di una gara che i campani hanno condotto dal secondo quarto in cui hanno preso il largo chiudendo ogni spazio alla squadra di Buscaglia che non riesce più a trovare fluidità di gioco. Per la VL una gara storta su tutta la linea in cui si salvano solo Bluiet e il solito Totè. In Serie B arriva invece la seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Service Loreto con la Golden Gas Senigallia che vince al Palamegabox al termine di un equilibrato 78-79 in cui Loreto si mangia le mani per una partita condotta per lunghi tratti. Nel calcio arriva il terzo pareggio di fila e il settimo risultato utile in serie per la Vispesero. Come sei giorni prima col Pineto anche con l'Arezzo finisce 1-1 al Benelli. Vischi si divora due grosse chance nel primo tempo con Silla e Pucciarelli e Toscani che al sessantesimo passano in vantaggio al primo tiro con una bella azione finalizzata da Pattarello. Vischi però non molla mai e perviene al pari al 91esimo con Silla che di testa correggere in rete una punizione di Di Paola. Nel calcio 5 cade con un netto 1-4 l'Ital Service al Palamegabox al cospetto della Sandro Abate Avellino. E dire che Pesero aveva chiuso il primo tempo in vantaggio sull'1-0 griffato Tony Dandel. Nella ripresa si scatena la capolista campana mentre Pesero sbatte sul portiere avversario e su tre legni che certificano la punizione troppo severa per i biancorossi. Nel volley la Megabox Vallefoglia subisce la terza sconfitta di fila uscendo KO dalla E-Work Arena in 3-7 contro Busto Arsizia brava ad aggredire sin dall'inizio l'avversario. Solo nel secondo set le Tigri rimangono in partita perdendo in volata 26-24 mentre negli altri due parziali le padrone di casa tengono in pugno il gioco vincendo connetti 25-18 e 25-17. Grazie a tutti.